Cari amici, in questa domenica il Signore Gesù vince le tentazioni per darci uno stile di vita, affinché veramente la parola del Padre possa essere presente in mezzo a noi. Domenica prossima, 5 marzo, la Chiesa della Trasfigurazione compie 13 anni. Tutti invitati a questa festa alle ore 10 affinché possiamo ringraziare il Signore perché si è trasfigurato. E se lo accettiamo nella nostra vita trasfigurerà anche la nostra. Tutti noi appunto ci teniamo a invitarvi perché questa Chiesa la sentiamo anche un po' nostra ed è giusto che quando c'è una cosa che ci appartiene, come una famiglia, la si festeggia insieme. Il programma di domenica alle ore 10 alla Trasfigurazione Messa Solenne segue aperitivo, teatro e pranzo per tutti i partecipanti. Vi aspettiamo!